Oggi come oggi parola fusion è molto importante perché anche la nostra vita quotidiana sta diventando tutti i sensi molto fusion. Volevamo avere questa tipologia di ciotole multiuso grazie a questa tecnologia tre colore tech di Guzzini che si poteva realizzare prima volta a mondo. Siamo partiti da colore tradizionale giapponesi. Alcuni molto orientali, alcuni molto italiani, alcuni più mediterranei. Sembra vetro, sembra raccato orientale, sembra ceramica. Ci vorrebbe un oggetto così libero, così importante ma a stesso momento facile da utilizzare.